Buongiorno, 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 come ho usnomeno i personagli di storie sacre? Il Signore ha fatto la sua storia e mi dice di loro, allora, Abram era vecchio, Jacob un imbrogio, Lì una femmina brutta, Mosella era barbata, Gedeon era un po' arrat, Sanson un femminicul, Rab un sdrondine, David un traditore. E lì è il profeta un sassin, Gheromè un squintiat, Gione un razzista, Ruth un puore vedue, Gioan Battista un stramp, Pieri un vigliac, Marte un esecchia mirindis, Zaccheo un imbrogio, Tomas non credeva a noi, Paoli un fondamentalista, Timoteo un uomo pleno di porre. Poi bene, anche noi siamo in c'è così, con i nostri difiesti e con i nostri deboli, ma se ho la finito dicerci scusi e ossidino a lui, alle buoni di fama riveis anche con noi. Buona giornata e buona vita.